Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Termina la giornata di Serie A, la 23esima, con il Milan che vince 3-0, partita facile contro il Cagliari. C'è veramente poco in realtà da dire, il Milan ha subclassato il Cagliari, Cagliari che non è mai veramente entrato in partita, mentre il Milan mi ha soddisfatto dal punto di vista del gioco, sicuramente è un Milan in crescita, un Milan rispetto a quando c'era Iguain che è cresciuto molto, grazie a Pionte che continua a segnare, grazie a un Ciaranoglu che ho visto meglio rispetto al solito, grazie a Bakayoko che è cresciuto in maniera esponenziale, al centrocampo con Pachetà, l'acquisto di Pachetà è un acquisto che dà equilibrio, è un giocatore un po' come che si, un giocatore capace di inserirsi, l'abbiamo visto anche oggi che ha segnato, un giocatore interessante, giovane, tecnicamente di livello, potrà veramente secondo me fare molto bene al Milan e poi ragazzi veramente per il resto Cagliari, a parte i primissimi minuti in cui qualcosina ha creato, ma comunque mai qualcosa di concreto, giusto un tiro di... è stato anche un po' sfortunato in un'occasione con João Pedro, però proprio João Pedro nel primo tempo è l'unico che ha fatto un tiro da impensierire diciamo Donnarumma, per il resto ragazzi è veramente niente, Cagliari che dovrà un po' un attimino rivedere anche la sua situazione perché ora si trova a tre punti dalla diciottesima posizione che è l'Empoli, Empoli e Bologna sono a 18, ora anche il Cagliari a 21 bisogna far qualcosa, bisogna sicuramente far qualcosa per cercare di cambiare la rotta perché se continui così hanno fatto un punto in quattro partite è chiaro che è difficile, la prossima partita avranno il Parma, Cagliari-Parma, il Cagliari è molto forte in casa secondo me, il Parma è molto forte in trasferta sarà anche una partita curiosa da vedere, però effettivamente Cagliari deve veramente come detto cambiare rotta Pavoletti non segna più, João Pedro non segna più, manca forse quel giocatore come Birsa dietro che ti crea gioco e mancava Castro già prima quando appunto era lui il creatore di gioco, con João Pedro un po' più avanzato secondo me vai a perdere un po' di equilibrio che ti porta a poi rimanere sbilanciato dietro con una difesa che non è proprio eccezionale secondo me oggi vabbè è anche stato sfortunato Cepitali, il Cagliari in un paio di occasioni come detto è stato sfortunato nell'autogol e nella traversa di João Pedro, però è anche vero che devi creare di più, ho capito cioè non sono queste le parti che il Cagliari deve vincere, però a livello di gioco secondo me è importante far vedere un segnale che comunque il Cagliari è una squadra viva, cioè il Sassuolo oggi è andato e indipendentemente da tutto ha provato a fare la partita col suo gioco il Parma è andato all'Algan Stadium e ha fatto il suo gioco, ovviamente mi viene in mente la Juve da Juventino però il Bologna è andato a Milano e ha battuto l'Inter, cioè nel senso quindi il Cagliari avrebbe comunque dovuto secondo me fare il suo gioco, poi se perdi non è a morte di nessuno perché come detto non sono queste le parti che devi vincere però devi fare un qualcosina di più, come detto il Milan grande crescita e secondo me può ambire la Champions io l'ho detto da inizio anno che il Milan quest'anno sarebbe cresciuto rispetto allo scorso anno perché chiaramente alcuni giocatori entravano in automatismi che gli permettevano di migliorare le proprie prestazioni per alcuni è successo, per altri magari no, come Giannoglu che è un pochino calato però anche sì che è cresciuto molto, altri giocatori si sono inseriti bene quindi è chiaro che se il Milan recupererà ancora di più tutti in maniera effettiva sarà veramente tosto, è una squadra che secondo me lotterà per la Champions e potrebbe anche raggiungere almeno l'Inter ecco il Napoli è un po' lontanino però ecco potrebbe anche riuscire a raggiungere altre se continua così e se rimane questo equilibrio che adesso ha comunque il Milan come detto detto questo ragazzi il video è finito io vi invito a mettere mi piace se volete altri video post partita a scrivermi nei commenti la vostra su questa partita fra Milano e Cagliari e infine vi invito a riscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video attualità calcistica, fantacalcio e qualsiasi cosa calda nel mondo del calcio detto questo vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video